Io mi chiamo Henry, benvenuto al mio appartamento. Sono arrivato qui per forse circa 4 settimane fa. L'appartamento è bellissimo, la zona è stupenda, ottima zona. Tutti i miei colleghi mi ha detto che sono molto fortunato. L'albergo è bellissimo, ma molto molto caro. Serva per una settimana, ma non serva per un mese. L'albergo non è casa. Haldis è una società molto seria. Io sono abitato per 7 anni in altre parti del mondo. L'agenzia di Nigeria è molto molto difficile. Qui è molto differente. Quando ho arrivato il mio ferro di stiro. Io non mi piace, ma è il mio ferro di stiro. Questa necessità non funziona buona. Io telefono Haldis e lo stesso giorno è cambiato. Questa mia cucina. Questa sembra un galicicin. c'è tutto. Sì, c'è tutto. Quando mi torno la sera, dopo la cena, io sono qui con un bottiglio di vino. Durante la settimana io guardo l'internet ogni sera. Farei email, anche le notizie sull'internet, eccetera.